benvenuti benvenuti cari amici siamo pt questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo ti distruggi il botone like iscriviti al canale iscriviti anche il canale telegram nuova promo devastante da parte i binks veramente un qualcosa di pazzesco ok questo exchange che ci regala tantissime promo a noi utenti per cui mi piace tantissimo il marketing che stanno facendo perché non è che vi chiamano lionel messi o grandi star ma decidono di far promo proprio per i loro clienti quindi di conseguenza vanno a premiare ok noi che letteralmente tradiamo andiamo a dare la promo di questa settimana perché secondo me è devastante anch'essa perché pensate per ogni 8 mila dollari di volumi che voi andate a tradare riceverete letteralmente uno spin ok se ovviamente non l'hai ancora fatto trovi sotto il link descrizione occhi da parte di bingax e potrai usufruire di questa promo ma anche di tantissime altre promo che fanno ogni settimana e quindi bastano per l'appunto 8 mila dollari e vi danno uno spin spin all'interno dei quali cosa possiamo vincere possiamo vincere ad esempio 5 dollari with dt con massimo di leva 5x potete perdere addirittura un iphone 14 quindi tantissimo 50 sui vi ricordo oggi hard drop di sui 30 dollari with dt a leva 50 dollari with dt a leva massimo utilizzabile leva 5x 2.000 sui 1 e 1 sui questi sono letteralmente i premi quindi una volta che vi fate 8 mila dollari di volumi e te lo ricordo ancora una volta se non sei iscritto trovi sotto il link descrizione perché solamente attraverso il link voi potrete anticipare questa promo potrete vincere ok letteralmente questi premi per esempio se io faccio oggi 80 mila dollari volumi che può essere ad esempio tanto trade da 1000 dollari faccio un esempio anche senza leva io mi giocherò circa 10 slot all'interno di questa lotteria quindi il tutto direi molto interessante perché assolutamente ve lo regalino e poi oggi che c'è le fomc direi che non dico che bisogna tradare perché non è un dovere però sarà molto interessante e ci sarà letteralmente tantissima volatilità quindi il tutto direi molto molto interessante andiamo a vedere anche il regolamento perché come detto almeno 8 mila dollari quindi magari chiudete un trade poi un altro ovviamente sono cumulativi e mi raccomando a partire dal 28 aprile ora 19 quindi oggi siamo il 3 maggio fino a il 12 maggio del 2023 alle 23.59 quindi abbiamo tanto tempo e possiamo accumulare tanti spin ok direi il tutto pazzesco ok secondo me è pazzesco perché soprattutto è uno degli exchange dove si paga meno commissioni quindi questo è l'evento vi ricordo che la durata dei trade deve essere almeno di un minuto mi raccomando quindi se mi andate alleva 100 so che sono dei trade ma lì sul minuto se dura meno ok non viene conteggiato detto questo se volete andare a vedere ancora maggiormente quelle che sono le regole potete vi lascio sotto il link ok potete vedere tutto e in aggiunta c'è anche un'altra promo perché pensate non solo vi danno gli spin ma potete usufruire questo per i nuovi utenti addirittura di 5.125 dollari waste di tra virgolette bonus andando a fare le varie missioni e poi per ogni 1000 dollari di sui ok tradati 1000 dollari vi regalano un dollari sui quindi se voi andate a tradare sui stanno incentivando il trade di sui vi regalano un dollari sui questo è veramente un qualcosa di pazzesco qui ci danno la tabella se tradate più di 15.000 dollari addirittura 50 dollari in sui come airdrop quindi veramente pazzesco ok come rewards se mi andate a leva 50.000 dollari 100 dollari in sui cioè devastante che come promo secondo me promo così nessun exchange la trovate dopo di che andiamo a vedere questa sera ci sarà l'fomc vediamo piccolo damp ok da parte i bit in questo momento guardate qui sul minuto eravamo a 28.491 ora siamo a 28.293 quindi è molto interessante anche andare a sultare questi damp e pump che ci sono perché qui ok che fate letteralmente i volumi detto questo ovviamente potete tradare come volete mi trovate anche come copy trader su binks basta che scrivete samubit e potete letteralmente ovviamente seguirmi e anche allocare parte delle vostre posizioni qui c'è il mio storico ok se volete andarlo a vedere operazioni come vedete alcune vanno molto bene alcune vanno anche male e questa ok è come va il mondo diciamo diciamo non male ok direi assolutamente non male se volete copiarmi ok mi trovate qui inoltre ti ricordo che bing x è uno dei migliori ok tra virgolette migliori exchange per quanto riguarda le commissioni guarda qui paghi solo il 002 in entrata e il 004 in uscita e allo stesso tempo ci dà anche una grossa sicurezza c'è stato l'auditor da parte di mazars che ha certificato proprio che ha coperture per 122 per cento in bitcoin 122 per cento in ethereum 186 per cento in usdc e 112 per cento in usdt quindi direi più che coliata realizzato come exchange ovviamente su un exchange c'è rischio e vi sottolineo c'è rischio ma io credo formalmente questo exchange soprattutto per il marketing che stanno facendo e per questo ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like iscriviti al canale e ovviamente iscriviti anche a bing x trovi sotto il link in descrizione hasta la vista ombre ombre ombre